C'è ancora tanta differenza tra Slovenia e Italia riguardo al calcio femminile perché anche lì non c'è tanta passione soprattutto per vedere calcio femminile, per guardare e per seguire le partite a parte che anche il calcio femminile lì non è sullo stesso livello che qua in Italia che comunque qua sta crescendo lì piano piano, davvero piano piano si stiamo alzando però comunque non ci si può proprio paragonare di quello che gente magari vive qua per calcio femminile quindi non ci sono i paragoni